Raccontami, cos'hai fatto oggi? Cos'hai fatto? Un po' per uno imbraccio la mamma e non potete farlo tutti contemporaneamente. Adesso arrivano anche le bimbe, poi vogliono venire anche loro. Come facciamo? Come facciamo? Sì, adesso ti prendo, leone. Adesso ti prendo. E ormai nel mio cuore i bimbi che mi manda la mia amica buongiorno di questa cantina pazzesca siciliana, Planeta. Io sono diventata ormai la cliente più affezionata di questa cantina. Grazie Giulia, grazie Planeta. Wow, wow. Questi sono i regali che mi piacciono tantissimo. Li sto sistemando nella mia cantinetta. C'è il bianco, c'è il rosso. Sito dell'ultimo, ragazzi. Questi sono i regali apprezzatissimi, grazie, grazie, grazie. E talmente desidero la neve che faccia nevicare anche in casa. Ah, sì, 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 sì. Ieri ha fatto un piccolo accendo di neve qui a Milano, ma è stato qualcosa che non è soddisfacente, diciamo. Va bene, è solo un salutino per augurarvi una gioiosa giornata. Ciao! 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 Ciao!